ah ah ragazzi aiuto ma cosa? ma cosa succede? ma porca miseria sta per comincio il nostro programma per ferito e questo qua ci viene cosa c'è Newb adesso? io voglio vederlo Espy ma dove sei finito? aiuto sono nel tavolo Luca non ci crederai mai vieni qua guarda dove si è gacciato ma viene a vedere lo spettacolo anche lui altro che il nostro programma cos'è? si è ficcato sul tavolo Newb come ci hai fatto? non lo so va bene ma esci fuori di lì dai esci rompito certe volte rompi il tavolo Luca lo compriamo nuovo non ti preoccupare facciamo un salto all'Ikea dopo ehi fuori ce la fai? grazie alleluia non rubarti il tavolo però eh sì ma dai non è possibile che ogni volta ti fichi in queste situazioni imbarazzanti Luca dobbiamo fare qualcosa dobbiamo aiutarlo ci sa che è ora Espy dobbiamo testare la nuova macchina non so se non ho commesso questa qui ma aspetta ma io pensavo che fosse per il caffè questa voglio infondere un po' della mia? o tua intelligenza dentro Newb Espy? voglio direi di mettere la tua di intelligenza vai di qua Newb che il rosso è più bello dai entra Newb non devi stare lì di entrare ma porca miseria siamo messi proprio bene ok stai pronti? se no fa casino vai perché c'è scritto pericolo di istruzione Australia vabbè io lo tiro lo stesso tre, due, uno ha fatto, ho sentito qualcosa tutto a posto ragazzi ehm, Espy? si, Luca si addormento, Luca ma che si addormento, cosa sta facendo? Luca non spaccare tutto cosa sta, oh mio Dio pensa a Luca qui con l'ostrofobia esci Luca esci, esci tutto a posto Luca che, che sta succedendo, ma Espy che cosa è successo? non capisco è so così strano Luca cosa stai facendo? oh no si sta buttando ma è strano di solito ti comporti tu così no oh, oh porca miseria sta scavando la terra oh no, oh no penso di aver capito Luca, Luca stai fermo nessuno ha la passione per la terra e le carote quanto ce l'hai tu Nub ah aspetta ho capito allora la macchina che hai creato la macchina vi ha scambiati Nub adesso cosa facciamo? non so se vi possiamo riscambiare c'è bisogno di un'idea qui potrei... Espy, ho trovato, ho trovato, ho trovato si, e se provassimo... hai trovato? facli ricordare quando era pronto uh, mi piace, ma come facciamo? con delle sfide delle sfide proviamo a convincerlo a fare... a fare delle sfide Luca, fermo un attimo qui allora abbiamo un piccolo gioco da farti fare allora Luca dopo pensi i biscotti abbiamo delle sfide da farti affrontare così diverrai ancora più bravo, capisci? no, schifo sfide se le affronti avrai un sacco di terra dai, vieni, vieni oh my lady don't cry Luca, Luca oh mio Dio no, si può sentire sta cantando pure come te Nub dannazione ok, ok, allora faccio una bella cosa 3, 2, 1 e andiamo ok, ci siamo allora dovremmo esserci questa è la prima prova oh, oh, attento ah, ah non occorre, Luca fai attenzione Piro d'Incudini non devi muoverti a casaccia devi fare attenzione Luca, Luca stai attento allora, allora devi fare qualcosa ah, porti mi dicevo, una mia beccata devi costruire un arco una terra e una libreria terra no, 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 terra no, non terra vieni qui sai leggere, vero Luca ah no, aspetta dottor leggo io devi craftare ah, oh mio Dio un arco un observer e una libreria ok entrambi lo fate eh vabbè ma è schiattato subito nemmeno il tempo iniziare a craftare mamma mia allora Nub è sulla strada giusta almeno per l'arco suppongo Luca Luca devi prendere gli oggetti devi prendere gli oggetti che sono dentro non far girare la pelle ma vieni qua dobbiamo fare una libreria come si fa una libreria ok ok lascia stare fai l'arco ok allora fate attenzione agli incudini però ok allora tre bastoncini e tre sì e tre tre fili giusto fare un arco dai Luca non è così difficile qui ci sono i tavoli da lavoro non ci sta nell'inventario non riesco è qua nella crafting table Luca dai su cobblestone luca vieni qua occhio redstone ed ecco qua un observer ne abbiamo tutti ok perfetto diamoli tutti a Luca oh vedi ce l'abbiamo fatta seconda prova guarda Luca te lo leggo io non ti preoccupare in ogni stanza troverete un'arma diversa e più forte vince chi supera per primo tutte le ondate senza lasciare mob in vita quindi una sfida Luca ricordate nella prima ti ha aiutato di nuovo ma in questo caso sarai tu non è là a te porca miseria iniziamo su allora entrate ognuno in una no Luca dall'altra parte devi entrare è quell'altra cerca di cavartela prendi quello che c'era la chest me ne prendo un po' anch'io che sta morendo di fame no si potrebbe rompere questo gioco ok Luca allora forse non è ripreparato ma devi semplicemente combattere ok con le spade non con i fiorellini è una cosa fondamentale Luca che devi picchiarli non velocemente un colpo ogni tanto capisci altrimenti gli fa pochissimo danno non sono lo zombie buona fortuna per le prossime per le prossime stanze allora queste più di danni invisibili attento Luca tieni ti lancio questa passione per curarti ma come corri ma è sempre peggio distanza distanza Luca non puoi correre basta ok corro anch'io ma hai passato le stanze se non sa finire di combattere Luca mi ha combattuto non è sì ma dove dove uccidere tutti i mob Newb ce la sta facendo invece tu sei mamma mia va beh non ci credo ma che diavolo via porca miseria Luca li ha saltati tutti vabbè diciamo che un po almeno un po furbo alla fine anche se in realtà hai saltato hai saltato il combattimento contro moltissimi mob ma come ma porca miseria già vuole affrontare la prossima prova ehm e ora dove andiamo allora questa è una prova di costruzione ragazzi ok Luca devi andare di là ah non lo so è un po' è un po' confuso questo cartello mi sa Luca devi andare da questa parte allora tu devi fare allora dovete fare entrambi una bella casa ok mi raccomando Luca conto su di te sono sicuro che tu ti potrai ricordare di quando eri ancora un pro quando facevi le case di diamante ma che dico diamante di quarzo tecnologiche vero no cosa fai ma porca eh mamma mia noob ma cosa stai facendo ma è bellissima sta cosa sembra un pochino una prigione eh vabbè una prigione ma il gusto il senso del gusto ce lo dobbiamo avere tutti eh l'ho capito non capisco come ho fatto fino adesso a vivere in mezzo alla terra beh dai anche tu Luca sei migliorato un pochino ma ma come chi è ma come ma sono io il grosso serpente di terra che ho domato come il grosso serpente di terra ma ma questo è il becco del serpente non lo so Luca comunque non sta andando male la tua casa ma l'hai finita mi piace eh sì manca ma dove lo fa il riscaldamento che poi è tutto è tutto bucato quindi esce subito l'aria calda beh qua non mi pare devi farlo devi fare una posizione migliore Luca ok bene signori intelligentino facciamolo qua sopra così tutto sotto rimane caldo cosa vuolta ah ma hai dato fuori ma Luca ma stai scherzando ma hai fatto attenzione a metterci delle rocce attorno se no lo sai che gli incendi si spargono un attimo si roccia sotto terra tutto sotto controllo bene mi fa ma stiamo scherzando tutto sotto controllo mi gira c'è un incendio ma Newb ah 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 oh mio oh mio cosa ha fatto ma porca miseria ma guarda che disastro ma non sono stato io non sei stato tu beniscutamente sicuro ma ma stai scherzando oh porca miseria guarda che disastro va bene ok allora decretiamo un vincitore non è inutile decretare un vincitore di questa sfida penso sia abbastanza ovvio andiamo a fare la prossima la prossima prova che è meglio e ora benvenuti alla quarta prova è come chi vuole essere milionario Luca tu vorresti essere milionario beh forse di terra sì io sono bravo qui perfetto rispondito a tutte le domande che arriva prima alla fine allora Luca immagino che è già andato alla terra come si crea una bolla d'aria permanente sott'acqua voi cosa dite cartello con un cartello secondo te Luca copriamolo subito un cartello e ci ha azzeccato ma porca miseria ma Luca ci ha azzecchiato sta migliorando allora va bene allora passiamo alla prossima domanda bravo è questo sì no il cartello è quello che hai posizionato porca miseria cosa uccide un pappagallo cosa uccide un pappagallo un biscotto una patata avvelenata carne cotta o carota avvelenata avvelenata vuol dire che ti fa male per cortesia rispondi anche a caso ma no ma no vedi è sbagliato devi scegliere la risposta giusta ok è biscotto Luca è biscotto rispondi biscotto ok vabbè proviamolo subito allora mettiamo un pappagallo e guarda Luca biscottino biscottino devi darglielo devi dargli il biscotto ma non lo sai neanche tu il bacon oh ha trovato il bacon come si crea una strega esatto io l'ho già fatto ti aspetto Luca è detto fa male strega fulmine su è la terza da sinistra dai visto che non se ne ammirare dai su guarda Luca ti faccio vedere ok mostralo tu non lì non lì non lì non lì qui devi metterlo c'è anche la freccia qua dentro ma porca miseria e ora premendo il pulsante guarda non ne abbiamo creata ora abbiamo creato 50 andate via andate via scappate ok come nascondersi dagli enderman allora ci si dà fuoco con la pozione di invisibilità shiftandosi una zucca in testa ma ma di un bello già fatta oh porca miseria confidiamo in te no le sto sbagliando ma lo stai facendo apposta Luca di la verità alleluia vediamo se funziona stupidi guarda non va le zucche vanno in testa non le devi piazzare non funziona ma dai ma non ci credo mettiti la zucca in testa devi metterla in testa la zucca come ti chiami penso di questa sia eccolo come ti chiami tu come ti chiami tu Luca come ti chiami dai ma come non so che sei indeciso fra Luca e Newb perché sei un po' confuso però dai Luca come ti chiami Luca non ci credo ce l'ho fatta sta migliorando un sacco va a te va a te oh che bello ce l'ha fatta finalmente e ora passiamo all'ultima guardate ragazzi prova no no è prova 5 ma dai guarda oh allora una prova di intelligenza questa penso mela più oro bisogna fare le prove devi scegliere l'oggetto giusto dai Luca per favore della risposta so che so che in fondo c'è ancora un pochino di pro dai io sto facendo il test Newb la quasi finito ma come devi mettere il risultato di questa operazione mela più oro dai ok ok è quella ok l'ho azzeccata oh mio dio si è avvelenato da solo che cosa sta succedendo avvelenato anche a me allora cactus più tnt allora cosa è verde ed esplode Luca dai inizia per c e finisce per riper Luca per favore Newb tu come si è messo cactus non cactus cactus non finisce e poi è uno degli ingredienti il cactus cioè uno delle cose soul sand e testa di wether che cosa fa? wether oh finalmente vedo che sta migliorando bravo Luca e ora preparatevi alla prova finale Luca sei pronto per la prova finale? te la caverai bravo romani non è non è il colosseo questo Luca è un'arena io ho mezzo cuore va bene pronti? ah oh mi sa che Luca ha capito forse anch'io ho capito Luca? piazza la testa ok no no non lì non lì ma come hai fatto sbagliare è colpa mia Luca devi dimostrare di essere migliorato non sparando così dai beccalo prendetelo benissimo bene ma ti sta migliorando no è schiattato un'altra volta dai che manca pochissimo ce la potete fare ce la potete fare ce l'abbiamo fatta Luca si è sopravvissuto a differenza di Joop mi sa che sei guarito dimmi qualcosa intelligente subito Luca terra no terra ma non è possibile abbiamo metto la terra Luca Luca ascolta ascolta mi dispiace di averti rubato l'intelligenza non volevo ok volevo diventare un po' più un po' più prova ma non volevo assolutamente rubato l'intelligenza si sta scusando con te guarda che poi ti do il becco no no oddio cosa è stato il bacon tutto ok siamo finiti da questo posto ma come cosa è questo io che deve essere successo qualcosa l'Australia l'Australia probabilmente l'abbiamo distrutta ma cosa l'Australia sta benissimo penso almeno perché non c'è la terra oh no aspetta aspetta ma è tutto tornato come prima lui sta cercando la terra e tu sei preoccupato del laboratorio dell'Australia perché mi hai portato nel Colosseo dai torniamo a casa un giorno ti spiegherò noob tu non ti ricordi niente dall'essere pro vero tipo del eh cosa stiamo d'accordo andiamo niente perfetto a questo punto direi vissero tutti felici e contenti circa vabbè tu fatti le tue storielle io vado Luca dove vai aspetta a questo punto direi allora vabbè